buon pomeriggio cari amiche cari amici siamo pronti ad andare sotto la pioggia pioverà forte fino almeno alle 15 a san siro ma sono d'accordo con i miei amici e colleghi di radio la notizia più importante del weekend ovviamente esulando dal discorso partita di calcio esulando dal discorso milanempoli che poi è la cosa più importante del weekend ma fuori dal campo extracampo la notizia più importante del weekend viene dalla gazzetta dello sport viene da alessandra gozzini che che lancia questa notizia il milan o meglio slatan ibraimovic starebbe per prendere jovan chirovski jovan chirovski come direttore sportivo forse è sbagliato perché direttore sportivo è una figura all'italiana serve il patentino no come suo collaboratore per quello che riguarda proprio la la riorganizzazione tecnica che lui ovviamente che vede lui ovviamente come il futuro protagonista è stato chiaro gerry cardinale è la mia emanazione e slatan ibraimovic ha cominciato e continua a muoversi e questo jovan chirovski potrebbe essere proprio il la prima pedina di questa io voglio usare le parole di gerry cardinale sarebbe bello parlare di rivoluzione lui non le ha usate vorrei parlare di cambiamento lui non l'ha usata ha usato la parola evoluzione e allora io sono per la parola evoluzione anche se in soldoni insomma gerry cardinale ha dato ordine a slatan ibraimovic di incominciare a guardare dentro quello che succede a casa milan per cercare di ottimizzare gli incarichi di dare diciamo una scossa un po tutta la situazione non che non funzionasse io non so non sono in grado di dire funzionasse o no ma se ha messo slatan ibraimovic slatan ibraimovic mette questo jovan chirovski e vuol dire che qualcosa si sta muovendo chi è jovan chirovski jovan chirovski è un è nato in california è di origine macedone è stato il giocatore di calcio nel borussia dormund dove ha vinto nel 96 97 anche la ho letto la champions league anche se non da protagonista poi è andato mi sembra al birmingham al crystal palace e poi è diventato il direttore tecnico dell'area tecnica ai los angeles galaxy dove ha giocato slatan e dove slatan ha incominciato ad apprezzare le doti di questo di questo dirigente che è stato lì mi sembra fino al 2024 per una decina d'anni lui ha portato alessandrini lui ha parlato da glas costa lui ha portato slatan ibraimovic ha portato dei giocatori importanti ai los angeles galaxy ed è stato dunque apprezzato da da slatan ibraimovic per questo lavoro per questo suo modo e mi diceva ho letto proprio sulle pagine del sito di radio rossonera è stato quello che ha creato anche la seconda squadra dei los angeles galaxy quindi visto che il milan sta costruendo la seconda squadra è un aiuto ancora più importante perché ha diciamo lavorato per lo stessa per lo stessi obiettivi e nella squadra di los angeles ecco ma la cosa importante che in cinque ci si incomincia a muore slatan ibraimovic continua a mettere sempre di più il suo diciamo le sue conoscenze la sua preparazione la sua passione senza si va sempre a cercare che cosa fa qual è il suo ruolo il suo ruolo è milan e cercare di rendere ancora più forte più competitivo il marchio il club la squadra milan si parte dai dai suoi collaboratori vedremo quali saranno le altre mosse in questo momento non è troppo difficile capire quando poi il mercato come funzionerà chi ci sarà qualcuno potrebbe dire sì chi kirovski non non conosce certo il calcio italiano signori volevo volevo invitarvi a una riflessione quando arrivano queste figure nuove magari visionarie magari che rompono un po degli schemi si tende sempre a snobbarle a minimizzarle a sottovalutarle e e poi col tempo sempre il padrone della verità si viene a capire quali siano l'importanza di queste persone queste persone e ci si pente di averle così considerate considerate sottovalutate considerate così con un certo snobismo ma dove vogliono andare perché ripeto sempre in questi video erano le stesse espressioni gli stessi sentimenti di quando silvio berlusconi è arrivato con gli elicotteri all'arena le ironie il sarcasmo ma cosa vuole questo pensa di inventare il gioco del calcio mentre oppure l'organizzazione delle squadre di calcio mentre accorti direttori sportivi di allora dissero dio mio se questo entra nel calcio per noi è finita e hanno avuto ragione e hanno avuto ragione quindi vediamo guardiamo il tempo padrone della verità ci dirà come queste evoluzioni questo modo di muoversi a che cosa porterà però è veramente la notizia secondo me extra campo più importante del weekend hanno ragione i miei amici di radio rosso nera perché si incomincia a muovere qualcosa sempre per il bene del milan nuove figure e speriamo che siano figure non solo nuove ma anche capaci di portare il milan ad alti livelli jerry cardinale si è affidato a slatan slatan incomincia a muoversi slatan non ha mai fallito nulla qualcuno gli piacerà dire sì ma non ha mai vinto la champions league ma sono ragionamenti piccoli che non ci interessano la vincerà da dirigente del milan va bene la mettiamo così e mettiamola così e mettiamola così speriamo d'altra parte siamo figli di questi di questa proprietà siamo figli di slatan a livello di futuro del milan e quindi facciamo un tifo sfrenato perché se dovessimo tirare contro questi lo dico sempre vorrebbe dire tirare contro il nostro milan quindi giornata importante di evoluzione le prime mosse di slatan ibrahimovic non andiamo a prendere se direttore sport suo collaboratore suo principale collaboratore era già l'hanno già visto spesso in tribuna con lui sta guardando il sincontro d'altra parte il motto della squadra scusate il motto del club oggi è milan watching cardinale slatan ibrahimovic lo stesso kirovskist hanno hanno guardato hanno osservato hanno visto hanno capito dove continuare hanno capito dove modificare ma adesso amici c'è il pallone che rotola già speriamo c'è una pioggia torrenziale questa mattina milano pioggia torrenziale speriamo non ci siano problemi che il campo assorba bene si dice che verso le tre in come dovrebbe cominciare a calare un più una pioggia tremenda che ha portato la pioggia milano e in lombardia ma neve in montagna dove dove nevicato forte forte e andiamo a tifare per il nostro milan il nostro milan che deve fare un po dimenticare la prestazione ma deve fare ricordare la vittoria contro il la vittoria contro il lo slovan e lo slovan lo slavia scusate lo slavia di praga contro lo slavia di praga sono cinque giorni importanti per milan anzi quattro il 10 oggi auguri a francesco camarda ne abbiamo già parlato ieri abbondantemente ridicolo pensare che arrivi al milan vediamo anche lì come si muoverà la società ma certamente mi hanno detto all'inter non andrà mai ridicolo pensare che giocherà all'inter ribadisco magari per me il soldato all'inter è ridicolo pensare che giocherà all'inter perché lui è un vecchio cuore quindi buon compleanno ancora lui il milan che affronterà sarà un milan con dei cambiamenti rispetto alla partita contro lo slavia praga e avremo megnani in porta un megnan che vorremmo vedere bello decisivo bello reattivo nelle uscite ancora inappuntabile nelle nelle prese è ancora straordinario lo vorremmo vedere ancora più protagonista un giocatore che ci ha sempre portato punti e deve continuare a portarci punti calabria il capitano e teo ornandez il vice capitano la novità ciao e tomori centrali e se giocassero come ci auguriamo può darsi che li ripresentino anche contro lo slavia di praga e sono dei giocatori su due giocatori per il milan fondamentali sono quelli che hanno portato all'inizio la la hanno portato all'inizio il milan a essere padrone del purtroppo per un mese e mezzo padrone del campionato a centrocampo renders e benasser che mi è sembrato in progresso giovedì giovedì scorso la davanti pulisic sempre gioca a sinistra ocafor centrale loftus chic autore ancora di un altro gol e la davanti jovic che oggi con questo terreno bello pesante potrebbe essere protagonista l'arbitro il signor sacchi alle ore 15 invito tutti a partire un po prima perché ci sarà traffico pozzangherone e quindi bisogna certamente guadagnare tempo care amiche cari amici la notizia è proprio dunque grazie alessandra gozzini della gazzetta dello sport questo joman chirovski vediamo che che figura che posizione prenderà come braccio destro di slatan ibrahimovic il milan si sta muovendo è importante che muova intanto la classifica però siamo alla vigilia di tre mesi che ci possono portare a delle rivoluzioni non la uso cambiamenti vorrei usarla a tante evoluzioni se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pelle gatti attivate la campanella e scaricate il link in descrizione iscrivetevi al canale